Acquisivano società in crisi, si appropriavano del loro patrimonio in danno dei creditori e dell'erario, poi le facevano fallire. Arrestate sei persone ritenute appartenenti a un'associazione a delinquere finalizzata a commettere reati di natura economica e che ha agevolato due cosche dell'andrangheta. Le indagini svolte dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano insieme alla Guardia di Finanza e ai Carabinieri hanno accertato distrazioni di denaro per oltre 4 milioni di euro dai conti correnti di tre società dichiarate fallite dai tribunali di Milano, Bergamo e Monza. Le risorse venivano drenate in favore di altre imprese, anche estere, sotto forma di pagamenti di fatture per operazioni inesistenti. Il gruppo criminale aveva interessi anche nel settore della sanità lombarda in relazione alle attività connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare riferimento alle forniture di materiale sanitario e all'esecuzione di tamponi da parte di soggetti non professionalmente autorizzati. Uno dei promotori del sodalizio ha agevolato le locali dell'Andrangheta di Lonate Pozzolo e Vibo Valencia, contribuendo al mantenimento finanziario di elementi di spicco delle stesse associazioni e dei loro familiari, procurando per loro falsi contratti di assunzione.